Ci sono brand in continuo movimento, che si espandono e conquistano nuovi mercati. Vuoi lavorare nel mondo del lusso e diventare brand manager o direttore creativo? Scopri il Master in Brand Extension di Polydesign. Con la didattica innovativa e interattiva, ti eserciterai con casi reali delle aziende partner e acquisirai competenze teoriche e pratiche per le future estensioni di marca di successo attraverso One Day Challenge e Field Project. Partecipa ai progetti con aziende come Tecnogym, Sergio Rossi, Cabana, Venki, Nespresso. I docenti del Master saranno imprenditori, amministratori delegati, professionisti e designer del settore. Entrerai in un network esclusivo, che rappresenterai il tuo primo passo verso il mondo del lavoro. Attraverso le company visit e i grand tour, ti confronterai con le aziende che hanno fatto della brand extension la loro strategia di sviluppo. Empowerment e Career Management e corsi di Business English completeranno la tua formazione per diventare un direttore creativo o un brand manager. Inizia a lavorare nel mercato del lusso. Iscriviti ora!